Signore e signori buonasera, ci troviamo a Minsk, la capitale della Bielorussia e vi giuro questi sono i primi due signori di colore che vedo in questa nazione, questo è il centro commerciale Rakatamat, vista di concerti e ovviamente quest'anno Minsk ospiterà le olimpiadi mondiali visto che l'hanno bisestile, la Belarus Bank sfoggia grandemente, il Tempio di Partenonio, la pubblicità dei gioielli strakatoschi, questo è il tram dei vostri desideri, eccolo, no è questo, il tram dei vostri figli, questi mangiano e bevono, la Samsung fa offerte anche qui a Minskia, la statua del pensatore con i fucilieri, eccola c'è anche la Coca Cola capitalistica, ha invaso questa nazione piena di comunisti, e addirittura la belle Swiss Bank, un incrocio tra Belorussia e Svizzera, una mostruosità come questo scarpone.